Musica Buongiorno, sono Vittorio Pasteris, consigliere del MUPIN, Museo Piemontese dell'Informatica. Il MUPIN è un museo che è nato grazie all'azione di una serie di esperti di settore, professionisti e appassionati una decina di anni fa, festeggiamo giusto quest'anno la nascita ufficiale. Perché è nato a Torino e perché è nato in Piemonte? Perché sostanzialmente il Piemonte è ricco di realtà che si sono occupate di informatica e di computer in questi anni, dall'Olivetti al Politecnico, tante realtà. C'erano molte persone che hanno lavorato in queste imprese e quindi questi hanno cercato di riunirsi per dare un risvolto storico a quello che è il percorso dell'informatica in Italia, in Europa e nel mondo, ma anche nella nostra regione. Il progetto del museo è nato anni fa da un gruppo che si riuniva a Moncalieri e che ha raccolto un'enorme collezione sia di computer che di documentazione, quindi libri, manuali e altro materiale utile per raccontare la storia dell'informatica. Diciamo che la nostra storia è cambiata nel momento in cui nel 2019 il Comune di Torino finalmente ci ha dato in concessione uno stabile che si trova nella parte nord di Torino, in quella che una volta era via Race Romer e che adesso si chiama via Piazza Valla, dove abbiamo dal novembre del 2019 in concessione una nuova sede che stiamo sistemando. Questa nuova sede si trova a fianco di un altro museo, direi diverso, ma molto ricco di contenuti, anche oramai di visitatori, che è il MUFAT, il Museo della Fantascienza e del Fantastico. Questo nostro percorso per arrivare all'apertura del museo, come potete immaginare, ha avuto dei problemi a partire dalla pandemia, ovvero sia noi volevamo inaugurare, fare una preinaugurazione del museo nell'aprile del 2020 che abbiamo dovuto ovviamente bloccare e per il momento stiamo aspettando di capire quale sarà il percorso della situazione per decidere le tempistiche della nuova apertura. Nel frattempo appunto noi abbiamo continuato anche nel periodo del coronavirus a fare molta attività, ovviamente siamo stati favoriti dal fatto che quasi tutti noi siamo degli esperti di cose digitali, quindi abbiamo fatto molta attività di divulgazione online attraverso un percorso di eventi video che abbiamo chiamato Mutuin Talk. Quest'anno siamo arrivati alla seconda serie, devo dire che sono stati molto apprezzati sia dagli addetti ai lavori che soprattutto dai normali cittadini. Poi abbiamo iniziato un'attività che si chiama Moping Clinic che è sostanzialmente finalizzata a aggiustare vecchi computer che ci vengono portati da persone o anche tra quelli che abbiamo noi nella nostra collezione. L'altra cosa che abbiamo fatto durante il periodo del coronavirus è Tutti i connessi, che è un'attività che abbiamo fatto con altre tre associazioni che ha avuto anche questo un ottimo successo. Tutti i connessi è finalizzata sostanzialmente a portare dei computer a delle famiglie e a dei ragazzi che si sono trovati improvvisamente nella realtà della formazione a distanza che non erano dotati o di computer, anche a volte di competenze per poter finalmente utilizzare bene la formazione a distanza a cui sono stati costretti a causa della pandemia. Adesso che cosa succederà? Stiamo iniziando i trasferimenti all'interno della nuova sede di tutte le collezioni che avevamo in questo periodo sostanzialmente in tre sedi decentrate. Sta iniziando la ricatacologazione di questo materiale finalizzato in due macro aree tutto quello che è il materiale hardware e software e tutto quello che è il materiale documentale quindi libri e manuali proprio per realizzare due importanti database che serviranno per creare anche le strutture fisiche collegate. Siamo in attesa che partano i lavori di ristrutturazione noi ci auguriamo all'inizio dell'anno 2022 compatibilmente sempre con la situazione pandemica che speriamo stia definitivamente concludendo di aprire il museo per permettere di realizzare quell'opera di alfabetizzazione digitale di racconto della storia del computer che è il nostro obiettivo. Grazie, buona giornata.